partiti seconda corsa in programma premio comitato regionale FISE sulla distanza di metri duemila e trecento la corsa riservata a gentleman rider amazzoni patentati FISE scatta al comando Eleno dopo i primi duecento metri di gara Eleno mosaico Bibi Bella Ardara Gibraltar Applied Ardara si porta a condurre a metà della piegata Ardara su mosaico che all'esterno Bibi Bella Gibraltar Applied Villaponti ed Eleno questo l'ordine quando i cavalli affrontano il primo passaggio davanti alle tribune con Ardara a graduare nei confronti di mosaico Bibi Bella Gibraltar Applied Villaponti ed il numero tre Eleno seconda piegata affrontata da Ardara al comando al suo esterno Bibi Bella mosaico Villaponti e la coppia Gibraltar Applied e Eleno cavalli lungo la retta opposta con Bibi Bella che affianca il battistra d'Ardara i due in coppia con in terza posizione Villaponti mentre muove anche Gibraltar Applied con all'interno mosaico ed Eleno Ardara aumenta l'andatura aumenta anche il divario fra gli inseguitori Villaponti in scia cede terreno Bibi Bella mentre aumenta l'andatura Eleno che va ai fianchi di Villaponti in caccia del battistrada Ardara Ardara che mantiene il comando della corsa cavalli indirittura Ardara al comando avvicinata da Gibraltar Applied attacco di Gibraltar Applied che passa ai duecento conclusivi Gibraltar Applied su Ardara terza posizione per Villaponti Gibraltar Applied in mano in assoluto canter controlla il ritorno di Ardara e Eleno che controlla il ritorno di Ardara e viene a vincere con Villaponti in terza posizione Grazie a tutti Grazie.